La terza via di DevOps. Ciao, io sono Michele e in questo video parliamo della via dell'ammiglioramento continuo e della sperimentazione continua. Negli episodi precedenti abbiamo parlato della prima e della seconda via di DevOps, quella orientata alla prima, al flusso, alla velocità, al guardare avanti, a ridurre gli sprechi e fare efficienza nei nostri processi. La seconda è quella del feedback, di amplificare e creare feedback dove non esistono per sapere come stanno andando le cose sia nei nostri sistemi di produzione sia all'interno dei nostri processi stessi. Invece la terza via di DevOps è quella dedicata, secondo me, a più un punto di vista culturale, è più proprio di approccio al lavoro, alla mentalità con cui dobbiamo gestire le occasioni di imparare e quindi gestire i fallimenti. La terza via di DevOps in particolare ci dice questo. Cerchiamo di creare opportunità di apprendimento il più velocemente, frequentemente ed economicamente possibile. Ma quali sono le occasioni di apprendimento per un software ingegnere in un processo di ingegneria del software, in un team che mantiene un software in produzione e così via? Non è che tutti i giorni possiamo partecipare ad un corso e cose del genere, quindi dobbiamo iniettare, dobbiamo capire come imparare dalla quotidianità, da tutto quello che succede, sono tante cose che succedono ogni giorno. Le occasioni sono gli incidenti e i fallimenti, quindi quando qualcosa va male in produzione, ma allo stesso modo anche in quei momenti in cui c'è mancato poco, vanno trattati come incidenti e i fallimenti. Anche qui è un aspetto un po' più culturale, quindi trattare quella volta in cui per fortuna ci è andata bene come un incidente e analizzare e capire che è successo. Infine anche in fase di progettazione, quando progettiamo, architetturiamo la nostra soluzione, è un'occasione di confronto e per migliorare e per evitare gli errori del passato. Un team, un'azienda che adotta correttamente la terza via di DevOps, che la segue bene secondo le sue pratiche e i principi, ottiene, riesce a diventare quella che viene chiamata una organizzazione resiliente. Dove, vediamo che cosa si intende, sono quelle organizzazioni che sono abili nel risolvere e trovare i problemi e moltiplicano questo effetto rendendo disponibile la soluzione che è stata trovata in tutta l'azienda, con una comunicazione chiara, efficace e trasparente. Un aspetto particolare della resilienza è quello che ha dimostrato Netflix, è un caso che è diventato famoso, quando il 21 aprile 2011 un'intera region di AWS è andata giù, si parla di circa 500.000 server, su cui venivano anche ospitati i servizi a piattaforme come Quora, Reddit e così via, ma Netflix è rimasto in piedi, perché Netflix stava spingendo sulla resilienza già dal 2009, con quei servizi che poi si sono diventati famosi, i cosiddetti Chaos Monkey, le scimmie del caos, che non erano altro che dei processi che andavano a spegnere i server di produzione, i servizi di produzione di Netflix a caso, durante l'operatività, durante le ore d'ufficio, proprio i server di produzione. Ecco che così Netflix ha quindi imparato nella sua quotidianità a capire come rendere il proprio sistema resiliente ai disastri. E il loro obiettivo era proprio quello di riuscire a reggere a un down completo di un data center, probabilità iperremota, evento molto remoto, ma fatalità è successo e anche si pensava che Netflix avesse un trattamento particolare da parte di Amazon, ma così non era, semplicemente erano stati bravissimi loro nel tempo. Per trarre tutti gli insegnamenti possibili e imparare il più possibile quando succede un incidente in produzione, dobbiamo cambiare un po' l'approccio alle persone e al concetto di colpa. Quindi dove abbiamo un approccio tradizionale, cioè dove appunto si punta il dito e vive il concetto di colpa, abbiamo indagini rallentate tendenzialmente perché le persone non sono trasparenti, cercano di difendersi e di nascondere i propri errori, quindi anche dando informazioni parziali e magari non corrette. Abbiamo quindi processi più burocratici perché di solito ci sono anche più documenti, carte da compilare, processi interni. Di nuovo la segretezza perché una persona che ha commesso l'errore, la persona che ha commesso l'errore o il team, non sarà completamente trasparente durante le indagini perché c'è quel concetto di autoconservazione che se ho paura di rivelare il mio errore o di rivelare ciò che ho fatto perché voglio mantenere il mio posto di lavoro o le relazioni con i colleghi. Ma la terza via di DevOps propone un approccio completamente diverso all'errore umano. Ci ricordiamo che DevOps non è solo un insieme di tecniche, ma è soprattutto un modo di lavorare diverso con le persone e è anche un risultato di tecniche di management che arrivano da altri settori. E quindi l'errore umano, il reinterpretato, possiamo capire che non è la causa dei problemi, possiamo pensare che non è l'errore in sé il problema. L'errore umano è il risultato di una conseguenza dell'ambiente in cui una persona si trova a lavorare, degli strumenti con cui questa persona lavora, gli strumenti che insieme abbiamo progettato e utilizzato. Quindi se noi ci mettiamo in quest'ottica, l'errore umano viene preso come occasione per migliorare la nostra situazione, i nostri strumenti, i nostri processi. Questo non significa che dobbiamo sbagliare ogni giorno con leggerezza perché tanto non mi verrà mai data la colpa. Certo, non verrà data la colpa nel senso tradizionale del termine, però c'è della responsabilità, che è un concetto diverso, quindi anche dell'orgoglio di fare andare bene le cose e non creare disservizi ai clienti. Comunque il concetto di responsabilità resta. Trasformiamo l'errore come momento per creare conoscenza, per migliorare i nostri sistemi, ok? Miglioriamo l'apprendimento, le capacità di essere trasparenti e di comunicare in azienda. Ecco che cosa succede? Le persone vivono con meno stress perché anche se ho sbagliato, certo non dovevo farlo, però in generale sono meno stressato. Magari sono anche più favorevole ad assumermi più responsabilità e andiamo a condividere l'apprendimento in azienda. Uno strumento importantissimo per imparare dagli errori e condividere ciò che è successo all'interno dell'azienda sono i post-mortem che sono dei momenti in cui si fa un'analisi approfondita il più possibile dopo un vicino a quando accade un incidente, subito dopo, vige il concetto di senza colpa e lo viene fatto dopo che l'incidente è stato risolto perché l'obiettivo numero uno è ripristinare il servizio sul cliente. Ci sono delle tecniche, di solito c'è un moderatore non possiamo fare in un video di pochi minuti un approfondimento sui post-mortem però sono uno strumento potentissimo che ci permette di concentrarsi sui fatti che hanno portato a quel fallimento a capire le decisioni che sono state prese per arrivare a quel fallimento per renderle trasparenti, spiegarle agli altri e trovare delle misure affinché questo non accada più. I post-mortem devono essere ampiamente diffusi si pubblica internamente in completa trasparenza in azienda quello che è stato prodotto se è necessario, togliendo ovviamente, cioè se possibile e togliendo magari anche delle informazioni, le informazioni sensibili può anche essere pubblicato esternamente ci sono aziende che lo fanno regolarmente. I post-mortem, mi raccomando, devono essere facili da trovare perché quando succede un problema simile devono essere consultabili per capire cosa è stato fatto. La terza via di DevOps quindi è un insieme di pratiche che ci aiuta a raggiungere la resilienza nella nostra organizzazione sia tecnica che di processo abbiamo visto l'esempio di Netflix e ci invita a ragionare in termini di... o le occasioni di errore di interpretarle in maniera diversa e di affrontare in maniera diversa il concetto di colpa per instaurare un ambiente di lavoro meno stressante e più collaborativo più trasparente tra le persone. Per oggi, con la terza via di DevOps, ci fermiamo qui. Se da questo video hai imparato qualcosa o ti è piaciuto mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite. Ciao!